Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti su il mio canale, io sono Maglus, siamo sempre qui su Little Nightmares 2 naturalmente questa è una serie che vi attira tanto, comunque non è che duri tantissimo però vediamo, sapete non solo il tipo che vi elemosina costantemente, like eccetera eccetera però supporto se vi fa piacere, altrimenti passiamo avanti e concludiamo la serie senza finirla naturalmente anche se devo essere sincero, un po' mi dispiace sempre non poter continuare alcune serie il problema è che quando una serie non va bene, youtube distrugge un po' il canale porca miseria e quindi diventa difficile poi portarne delle altre si dovrebbe trovare un modo per cercare di riuscire a continuare anche da un'altra parte le serie che non portiamo avanti vabbè, non ci abitiamo, ma alzi pure la polvere, alzi vabbè, riesci ad aprire anche la porta? ma non credo ah, mi serve un varco e dove ne chiamolo andiamo? ma forse mi sposti questo? addirittura e ci mettiamo tre giorni per portarlo là sotto vabbè sarebbe una soluzione buona quella di riuscire comunque a continuare le serie senza però non distruggere il canale non so quanto ti sia convenuto entrare qua dentro basta andare in fiamme o qualcosa ma saliamo ho sentito qualcosa? due bottone sono andato a sinistra ma non so se sbastra si si però non so se conviene fare queste qua non ci sta niente quindi c'è un cappio là che bello non credo che sia importante no? occhio qua occhio qua occhio qua che devo montarlo? veramente ma che giochiamo? a dama a scacchi no non ce la fa ah quindi faccio solo tutte le cose no 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 c'è adoro vai ma dici che ce la fa è saltare da qua? si che mazzo stava posizionando ah so bambini quelli che so no vai 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 andiamocene andiamocene bello il quadro che che è sta cosa ah ok eeeh si quindi quello va là aspetta un attimo eh forse è capito una cosa questo si smonta? si allora questo va là là è la morte là ci sta un'altra croce là ci dovrei no là ci va quello la eeeh ah ce ne sta quello la sua quindi la croce va qua si come la pigliamo la croce? aspetta 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 forse che va no la porta aperta questo lo prendo così quindi la croce la dovremmo poter prendere se ce la fai pigliavi a volte non capisco se me lo fai al posto vai piglia grande questo è croce eh scazziamo niente e vai piglia perché a volte che a volte hai difficoltà a pigliare le cose ok parisi dai mettilo qua la croce qua sta bene poi che dobbiamo fare? il cupcake dovrebbe andare non ho capito se questo va là eh io lo metto qua e il cupcake qua lo mettiamo là però ci manca ancora quell'altro che è successo? si è accesa la luce si è accesa la luce riesce a saltare là la bottiglia che faccio? la bottiglia non serve a niente no? e... aspetta che si è entrato qua che facciamo con la bottiglia? non è che ho capito eh non ho capito che si... ah ok ups passaggio segreto? è una chiave? ok grande via 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 non ho visto porte però vi dico la verità eh però oh c'è una spada perché non la prendiamo? ma non ho capito dove dobbiamo andare a questo punto perché c'è la chiave l'abbiamo trovata ma non ci stanno porte no no ma a meno che dall'altra parte non c'è una porta e non l'ho vista ma non mi pare che ci fosse la porta ah ok è in ombra qua ci sta un lucchetto non lo vediamo bene ma non mi pare a parte che non si vede la mazza però scendiamo ah ma questo si questo è un cappio? no no attenzione che cadiamo eh quindi che forse ci deve essere forse è qua ok qua vai e poi oh aia senti dei rumori che vengono da destra questa cosa è un preservativo è una salsiccia che va bene ah di là oh ma sei piccolino ma c'è una forza bestiale c'è la forza del trichico vediamo se da qua ok ma stanno mangiando o si stanno scavando aia aia eh beh ti devi dare una mossa però eh 30 minuti puoi pigliare sto cosa e dai forse già c'ha il cappello con la foglia in testa qua devi essere rapido eh rapido e vai e vai 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 veloce veloce e dai se va buono ma che ci metti 30 minuti ma cioè ti sposta un carrello di 60 kg e poi 3 ore per pigliare la mazza cioè un mestolo non è credibile ma che sta facendo quello sta facendo ok ok oh c'è un altro basta basta ma io sento un rumore ma qua si passa allora fammi cammi una cosa qua non capita ok di qua ah forse mi devo appendere là mi devo appendere là forse aspetta che stai facendo ah che mazzo non me ne ero accorto ok involontariamente volevo fare una cosa ho fatto un'altra cosa bravo vedi questa si chiama intelligenza vedi ciao ragazzi ciao buonasera ma quella che senti sono puzze no no che l'altro fa ops eh che c'è ma pure fra di voi ci spingiamo aspetta che vi mangiate attenzione attenzione la patata anche ora rapido che vi volete bene pure fra di voi si oh guarda quello lo stavo sopra attento che ti spacchi lascialo sta a mano aspetta che mi sono distratto ecco bello che ma meno male che si sfona mettiti il cappello tuo ecco bravo ma che è in tasto quello è in tasto no la devo lanciare secondo me boh ma non ha fatto rumore incredibile che roba era ho lanciato una cosa si è rotta e non ha fatto rumore insonorizzato va bene ah ecco porca mia non volevo fare niente tanto si salta qua penso che penso che sono morto ma vediamo perché se riesco ok ma che cavolo ok perché così e di questo oscillo non serve a niente a che serve questa cosa ma poi non mi pare che sia aperta niente no non è che sia questa cosa questo che è che schifo ma forse questo devo agganciare che aggancio è questo ok mamma mia signora ma lei sta sempre qua che schifo che sta facendo dove me ne vado mo ah ma si offre anche di sciatica la signora non c'è nessuno signora non c'è nessuno vai 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 che ci ha aperto pure la porta vai ok ok non mi dovrebbe vedere penso da qua no un po' troppo facile però se non è qua mi vedete no ecco porca miseria maledetta ma come ha fatto a vedermi ma porca come ha fatto a vedermi ma porca di quella miseria allora la tecnica è buona vai la tecnica è buona solo che lei se ne va sempre all'altra parte non so perché eh no se se ne andasse all'altra parte sarebbe perfetto ma non c'è niente non c'è niente continua a fare ancora e vai in alto in alto in alto no mica entra qua ma no eh ah ok vai ok siamo dentro ma perché atterri sempre con le ginocchia ti spacchi tutto tutto non cambi un martello però non funziona così scusami se praticamente c'è una misera mannaggia va bene ok no perché aspetto troppo aspetto sempre troppo aspetto allora questa gli facciamo fare la nostra bella fine e ci sta ok vai ok attenzione no lo sapevo uno vai andiamo non mi piace il tapito ok e vai devi essere veloce 30 ore per pigliare sto scusare sto martello vai rapido rapido avanti abbiamo avuto sto martello sicuramente ti servirebbe tipo un'arma un po' più leggera non hai il fisico adatto eh bravo mamma mia per poco quanti ce ne stanno anche avevo visto qualcosa ok no l'ho preso ma come se c'è la testa di acciaio non si è fatto niente meno male aspetta che siete ah ma sta attaccato no no è una bambola è viva ancora ok oh meno male abbiamo ritrovato ritrovato per me come ti senti un po' magra oppure un braccio no è dici che usciamo ok ok ah pensavo che stavamo liberi invece non è che siamo liberi andiamo oh non è una buona idea fatti ma arrampico no ah c'è una manoverra qua eh non penso a chi poi qualcuno ci doveva stare sopra adesso è tesa e ci possiamo salire ah no così andiamo giù vai vai che bello poi dice qualcuno si incazza eh speriamo che nessuno si incazza gli abbiamo ah mi sembra un'altra chiave gli abbiamo sfondato un pavimento sfondato casa mi dai una mano vai con che cosa domino che è sta cosa basta 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 ah ok dicevo io non stavo pensando e ora come facciamo ah che bello essere in squadra vai vai eh no aspetta aspetta ah no che vai verso la morte cioè ah forse lo distrai prima ma sei un grande te lo lascio per vendicare sei aggressiva sei abbastanza aggressiva basta basta e non è infierita però martello penso che non servino e io pensavo di essere cattivo eh che fai c'è soltanto mi riesce qualcuno da qua dentro no andiamo verso la musica c'è dobbiamo andare là dai dai ok ah ti lancio questo ah ce la fa però in questa parte penso che lei la vuol di più ok non penso che dobbiamo salire ancora ma se la signora che sono aspetta aspetta iniziamo a spingere ma non capi non ho capito come cavolo fare per andare eh ma mica qua riesco a passare no eh mi sono spaccato il cranio eh penso ah c'è pure la manovella eh sì domani se ne accorgerà sicuramente la signora vado e poi non ho capito se la signora ci vede assai o ci sente assai aspetta bella canzone signora vincere al sferzio di sanremo sicuramente aspetta che ora finisce pensa che devo abbassarla ancora mannaccia vai attenta attenta ma non ce la farò mai mi basta dire eh no ehi devo recuperare il carrello là siamo fottuti secondo me aspetta questa si ferma non ce ne accorta di niente a volte si accorge l'impossibile a volte non si accorge niente vai 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 luce ce l'ha fatta io non salterei adesso perché è meglio aspettare andiamo brava che mi hai aspettato vai porca misera porca misera ma quant'è lunga sta testa quant'è lunga vai veloce vabbè basta penso ehi continua a salire perché tu stai così indietro non capisco perca misera ma c'è una testa infinita la signora siete morti no non riesco a uscire ok posto vai no aia che passoferino aspetta vai che è meglio cambiamo quartiere quindi penso mi sa che devo spostarlo ma non è che forse si deve riempire l'acqua no si l'arribe già riempito l'acqua ma cosa stiamo sapete quale ah ma si spinge pure così ok dici che ce la fai puoi saltare da là io non penso che ce la fai vediamo un po' visto salti tu? io non ce la faccio saltare c'ho l'ernia invece ce l'ho fatta vai vediamo se tu ce la fai ma questo è più bravo di noi quante case no in fondo nel piccolo è meglio di noi secondo me qua è più tranquillo che è sta cosa che è sta cosa ah l'hai trovata tu che ah già hai ragione mi fa una tenerezza tremenda quando si danno la mano mi viene una cosa nel cuore proprio vabbè ragazzi questa parte la terminiamo qui non so se andremo avanti con la serie vediamo un po' ci vediamo sempre al prossimo video bye ciao